Assessore Stellato, in questi giorni è stata redatta una delibera per l'affido familiare, in che cosa consiste? L'affido familiare è uno strumento che noi usiamo per evitare di rinchiudere i minori nelle casse famiglie. Come fanno i bambini ad essere affidati? Ci sono due tipi di affidamento, familiare ed extra familiare. Sì, innanzitutto con l'affido familiare o extra familiare tentiamo di ricostruire un ambiente familiare idoneo per il minore. Di solito noi tentiamo sempre di affidarli ai parenti più stretti, che poi sono quelli che sono obbligati agli alimenti. In questo caso noi prevediamo un contributo mensile per far fronte alle spese del nuovo arrivato nella famiglia. Questo contributo viene decurtato quando si tratta di affido familiare, cioè quando il minore è affidato ai suoi parenti di sangue, in base ai nuovi modelli, alle nuove regole ISEE. Quando invece il minore è affidato ad un nucleo extra familiare la misura è fissa. Fissa intorno ai 200 euro. Ma per quanto tempo può durare questo affidamento sia extra familiare che intrafamiliare? L'affidamento di solito dura fino al diciottesimo anno di età, però è prolungabile anche fino al ventunesimo, nel caso in cui il minore stia seguendo un percorso di studi e comunque può cessare su disposizione dell'autorità giudiziaria. Per fare questo delibero evidentemente ci sono delle necessità che voi avete riscontrato sul territorio, tanti bambini che hanno necessità di avere un ambiente familiare idoneo. Sì, può darsi che si tratta di minori che abbiano perso entrambi i genitori, che abbiano un genitore sottoposto a misure restrittive. Comunque si tratta di nuclei familiari che hanno difficoltà di varia origine, di varia natura. Oppure il provvedimento viene disposto dal magistrato. È un istituto al quale noi tentiamo di dare un forte impulso, non solo perché fa parte dei nostri obiettivi di allargare la rete della solidarietà sociale, ma anche perché noi tentiamo di evitare quanto più possibile la cosiddetta istituzionalizzazione del minore.